Dio è un sognatore, sogna la trasformazione del mondo e la realizza nel mistero della risurrezione. In questo passaggio della Catechesi all'Udienza Generale, in Piazza San Pietro, incentrata sulla speranza cristiana, Papa Francesco ha evidenziato quanto l'incontro con Gesù cambi per sempre la vita dell'uomo. Ricordando la vicenda della testarda Maria di Magdala, la discepola che aveva accompagnato Gesù fin dalla Galilea e che restò incredula e piena di lacrime dinanzi la tomba vuota, il Pontificio ha sottolineato che solo quando viene chiamata per nome riconosce la presenza del Signore. È l'incontro personale con Cristo che vede la nostra sofferenza e si commuove con noi la vera rivoluzione e che, ha affermato il Papa, comincia con un nome. La risurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita. L'esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutto. La certezza, ha concluso Francesco, è una presenza che libera nell'ora del pianto e dell'abbandono e che ci chiama alla speranza. Ognuno di noi è una storia di amore di Dio. A ognuno di noi Dio chiama per il proprio nome, ci conosce per nome, ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi. È vero o non è vero? Ognuno di noi ha questa esperienza. A ognuno di noi è una storia di amore di Dio. A ognuno di noi è una storia di amore di Dio.